I nostri esperti, gli appassionati di cinema, professor Bennato, professoresso Refice, professor Liotta, vale a dire Catania, Napoli, Bologna. Andiamo a Catania, professor Bennato. È un'offerta che mi colpisce oltremodo, nel senso che colpisce corde della mia passione cinematografica che in realtà si distribuisce in maniera piuttosto disordinata e infatti i film che sceglierò e che adesso mostrerò le mie scelte colpiscono corde diverse dei miei interessi. Comincio subito con Gloria, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché mi piace molto questo punto di vista della musica del periodo di Vivaldi, però dal punto di vista delle donne che mi piace molto come idea. A me tra l'altro quel tipo di musica classica, quel tipo di barocco mi piace molto e quindi sicuramente è un film che andrò a vedere. Anche perché tra l'altro ci sono una serie di comprimari maschili che io, devo dire, letteralmente adoro, tipo Natalino Balasso, Paolo Rossi, Elio e Dielio e le storie tese. Quindi sicuramente questa è la mia prima scelta. Poi l'altro è il mister del bar etuale, che io, devo dire la verità, non conoscevo i due registi, però ho avuto, diciamo così, andando a cercare un po' le informazioni in rete, che è la mia fonte di informazioni privilegiate, i video, le interviste, eccetera, eccetera, tutte le immagini che ho visto di questo film mi ricordano in un modo assolutamente palese un certo fumetto surreale belga che io adoro da morire. Quindi questo tipo di rappresentazione un po', la dico strana, sbilenca delle immagini, mi è piaciuto moltissimo e me l'ha reso molto 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 simpatico. Dopodiché c'è Ghostbusters, perché, devo dire la verità, io non sono di quelli che vogliono rivedere vecchi film degli anni Ottanta in questa contemporaneità, un po' perché a me piace ricordare le cose, sono sempre più belle quando si ricordano fondamentalmente. Però questa cosa di Ghostbusters mi interessa per capire come è stato giocato il tentativo di fare un franchise nuovo, che in alcuni casi è stato, si è un po' frammentato, non ha avuto il successo, ma soprattutto per vedere come, che fia hanno fatto il gruppo originario dei Ghostbusters. E poi l'ultima mia scelta è la pitturesa, che io, diciamo così, sul quale documentario, devo essere sincero, non lo conoscevo, quindi mi sono andato a documentare, mi sono andato a cercare. Devo dire la verità, quel tipo di rappresentazione, quel tipo di cultura, soprattutto anche il percorso artistico, di come si diventa artisti negli anni Sessanta, l'ho trovato assolutamente interessante, assolutamente illuminante, cioè vedere gli anni Sessanta da un altro punto di vista. Quindi mi ha reso molto curioso. E poi devo dire la verità, anche se avessi avuto qualche perplessità, e ripeto, non ce l'ho avuta, perché mi sono un po' studiato la pellicola e i vari trailer che sono c'è trovati in rete, questa allure di Fabiana Sargentini, assolutamente non intellettualistica, e però avendo fatto un documentario che poteva tranquillamente avere un atteggiamento completamente diverso, me l'ha reso assolutamente simpatico, e quindi motivo in più per andare a vedere questo film. Professoressore Fice, tocca a lei. Benato Refici-Eliotta, la classifica, professor Benato. Bene, la classifica, bu, io la vedo piuttosto dinamica, nel senso che intercetta diversi gusti, diversi pubblici, diversi interessi. Quello che mi sembra curioso è l'organizzazione dei primi tre posti. Sicuramente sono molto contento di un mondo a parte, anche perché io tra l'altro adoro l'albanese, proprio detto fuori dai denti, quindi sicuramente mi fa, anche quando fa le parti drammatiche, quindi sicuramente sono molto contento. Però sto fatto che c'è Kung Fu Panda da un lato, che si contrappone a Godzilla contro Kong, la vedo, diciamo così, è un bel messaggio, diciamo se è metaforico e simbolico di come stava, di come, diciamo così, il blockbuster americano possa essere tenuto in basso dai buoni film italiani. Professoressore Fice. Grazie. 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 Grazie a tutti.